Marco, com'è stato il tuo incontro con Estra? È stato un incontro di seduzione perché io facevo questa strada, lavoro da molti anni a Prato, facevo la strada davanti alla sede e guardavo questo edificio con il nome Estra, che mi colpiva particolarmente, che mi occupò anche di naming, e questo Estra mi suggestionava in qualche modo. E poi in più avevo visto i negozi che erano particolarmente colorati e tagliati per accogliere il cliente, quindi ero affascinato da questa azienda. Questo è stato il primo impatto. Possiamo definire la cultura organizzativa un sistema condiviso di valori? Sì, sì, è questo di fatto. La cultura organizzativa non è una semplice somma di norme o di regole, ma è una condivisione di valori scelti e sostenuti alle persone che lavorano, che poi ricade sul comportamento, chiaramente. Quanto incide una buona cultura organizzativa nei risultati di un'azienda? Moltissimo, perché è proprio lì che si vede, nel senso che i risultati sono una conseguenza della buona cultura organizzativa, cioè quando le persone riescono a integrare l'organizzazione non come un obbligo, ma come uno stile di comportamento, allora riducono gli errori, riducono lo stress e aumentano la produttività. E quindi ha un'incidenza diretta. Il lavoro in team, il lavoro di squadra, è una chiave di successo per l'azienda? È una chiave di successo per tanti motivi. Di sicuro è l'ambito attraverso il quale si valuta la buona cultura organizzativa. Lavorare in gruppo non è più una questione di stile, cioè non possiamo più pensare alle persone che sono più o meno portate o adatte a lavorare in gruppo, ma è una delle competenze necessarie per stare in azienda. Non facciamo più di lavori così semplici da fare unicamente da soli. Ogni lavoro è complesso e ha mille interazioni. Siamo tutti interconnessi, non solo attraverso gli strumenti tecnologici, ma anche nelle relazioni interne all'azienda. Quindi lavorare in gruppo è la prova della buona organizzazione e incide direttamente sul conto aziendale. Parliamo allora di benessere organizzativo e di valorizzazione delle persone. Sì, allora, questa è la giusta combinazione. Il benessere organizzativo è quello che viene generato da una situazione di ordine e di consapevolezza, cioè dove le persone sanno cosa devono fare e di cosa devono occuparsi. Il benessere, perché parliamo di benessere? Perché parliamo di riduzione dello stress. Il caos genera stress. Il caos organizzativo genera malumori, affaticamenti e errori. Quindi il benessere organizzativo è decisamente quello legato maggiormente alla possibilità di valorizzare le persone, perché le persone in un contesto ben organizzato riescono a tirare fuori il loro potenziale più facilmente. In che relazione sta la cultura organizzativa rispetto alla comunicazione? La domanda è importante e la risposta è un rapporto determinante questo, perché la capacità di comunicare fra persone e la capacità di costruire buone relazioni e gestirle non è più qualcosa di legato a persone o a settori dell'azienda, per esempio all'ufficio comunicazione, interno o esterno. È una di quelle competenze necessarie. Io mi occupo di selezione e a volte trovo persone molto competenti sul piano tecnico, nel settore in cui operano, ma scarsamente inclini a sviluppare relazioni. Purtroppo devo penalizzarle, perché comunicare non è più una competenza sottile o accessoria, è una soft skill, è una competenza forte, strutturante e sul quale basare poi tutto il sistema organizzativo.